Uno scontro senza fine tra De Luca e De Magistris, anche a distanza, permane lo stato di guerra quando si parla di servizi e in particolare dei trasporti a Napoli. Dopo aver salvato il CTP, il governatore torna a parlare di disastro amministrativo, riferendosi ai dieci anni di amministrazione Demma a Palazzo San Giacomo. Noi abbiamo avuto a Napoli il più grande disastro amministrativo del mondo, dai dieci anni che abbiamo alle spalle. E' una delle bizzarrie di questo paese che è il protagonista di questo disastro amministrativo. Mi dicono che continua a girare per le televisioni a fare il testimonio dei debiti fatti e delle aziende portate al fallimento. A stretto giro è arrivata la replica dell'ex sindaco che proprio oggi alla Feltrinelli presenta il suo ultimo libro Attraverso Napoli, dieci anni di passione. Per Demma, De Luca è il vizietto della bugia perché tutti i buboni di rifiuti, trasporti e servizi a Napoli sono stati ereditati dal partito del presidente, scrive l'ex magistrato in una nota. Nel frattempo il problema delle aziende partecipate a Napoli resta e Manfredi è chiamato a risolverlo entro fine settembre, quando il premier Draghi dovrà avere sulla sua scrivania il piano di riorganizzazione ed efficientamento delle partecipate napoletane. Il caos trasporti con ANM nella bufera, la metropolitana ferma, Pasqua e Pasquetta sono solo l'ultima goccia. L'idea è quella di mettere dei commissari scelti direttamente dal sindaco per merito e non per appartenenza politica, pescati nei ranghi della pubblica amministrazione, sul modello di Asia, l'azienda dei rifiuti. L'esito finale della riorganizzazione sarà la creazione di una holding che gestisca tutti i servizi di Napoli.